un saluto ben ritrovati come state un abbraccio a tutti un saluto sono giorni settimane molto importanti sarà un maggio incandescente perché compio 40 anni no scherzo questo non c'entra nulla ovviamente sarà un maggio un maggio in cui ci giocheremo il passaggio una finale champions quindi speriamo che la nostra stagione finisca il 10 giugno ragazzi tutti insieme tutti uniti c'è bisogno di tutti mi raccomando viviamo la passione con grande amore e per questo mi invito a iscrivervi qui se non avete ancora fatto sul logo di milanello ovviamente gratuito un benvenuto ai nuovi che si iscriveranno nel corso di questo video lo dico chi non si iscrive ti fa inter la seconda squadra di milano quindi vediamo quanti milanisti ci sono qui dietro lo schermo iscrivetevi un grazie anche ai vecchi e commentate numerosi mi raccomando con il vostro punto di vista qui sotto vi invito anche a scaricare gratuitamente l'app di one football l'app numero uno per i amanti di calcio e di milan è sponsor del milan è sponsor della serie a vi fa vedere gli highlights gratuitamente delle partite di milan con tutte notizie esclusive live calcio mercato con soltanto notizie di milan se lo volete è gratuita vi metto il link qui sotto nella descrizione potete andare cliccare tornare io vi aspetto non mi muovo perché mi dovrei muovere allora c'è una notizia clamorosa molto molto importante molto 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 autorevole che riguarda magic mike megnan il nostro portierone intanto voglio togliermi un sassolino dalla scarpe purtroppo perché prefererei non togliermelo però devo togliermelo quando ci dicevano anche da fuori però tataro sano ha fatto il suo si aveva fatto il suo certi momenti di più in certi momenti di meno però ragazzi ci siamo resi conto tutti credo se per qualcuno c'erano ancora dubbi ci siamo resi conto tutti di che giocatore è magic mike megnan è un top tra un top e un portiere normale capite che c'è differenza ballano punti purtroppo l'abbiamo avuto fuori per cinque mesi con sul mondiale diciamo 4 altrimenti avremmo sicuramente tanti punti in più in campionato avremmo oggi una situazione di classifica diversa avremmo l'estrema tranquillità di un posto in champions league e magari insomma avremmo ancora chance scudetto questo non lo so non lo voglio neanche più approfondire megnan ragazzi è stato fuori mesi 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 è rientrato e tu dici ci metterà un po ritrovarsi ma che è rientrato a livelli incredibili forse anche cresciuto rispetto allo scorso anno se ci pensiamo buttati lì a caso comunque come vengono appena tornato lui ha messo in serie una serie di interventi pazzeschi l'uscita su tiacola salernitana la parata a minuto 92 su rekane e grazie a quella siamo andati avanti altrimenti ci sarebbero stati supplementari minuto 92 quando la concentrazione rischia di venire magari un po meno la stanchezza la palla scotta la parata su di lorenzo a minuto 87 finale partita la parata sul calcio di rigore con la francia su depai la paratona con l'irlanda che è una parata pazzesca davvero da stampare mettere in copertina sui libri di calcio la parata del calcio di rigore di varascheglia ragazzi non è che è rientrato mesi fa non poco tempo fa è rientrato oppure guardate quanti interventi ha fatto uno più importante dell'altro ovviamente non casuali parate interventi da grande portiere io lo dico secondo me è il portiere migliore al mondo perché si chiedeva lui si diceva valutiamolo anche magari con la francia in champions league li manca l'aspetto europeo alla faccia del bicarbonato di sodio come direbbe qualcuno tra l'altro è stato ci sono un paio di retroscena che vi voglio raccontare prima di andare poi nel secondo aspetto della notizia clamorosa tomori ha detto megnana porta davvero tanta calma la squadra con la calma che magari contatta rusano appunto abbiamo visto non c'era anche per tomori stesso è una presenza che si sente e quando c'è bisogno di lui c'è sempre fa parate da fuori classe come quella su di lorenzo da grande fiducia possiamo giocare alti con la difesa ed essere più aggressivi quando c'è lui in campo ad li ha chiesto alla curva vi prego facciamo una canzone per questo portiere pazzesco effettivamente serve una canzone per magic mike e megnan ragazzi non può mancare una porti una una canzone per un portiere del genere anzi se avete uno spunto magari mettetelo qui sotto ma anche qui un piccolo jingle per minanello perché noi abbiamo la voce non c'è più è colpa di girù la voce ha detto ciao è colpa di leao serve quella su megnan megnan a magic mike non segni mai si può fare meglio ragazzi scatenatevi datemi qualche suggerimento perché avete sicuramente tanta fantasia anche più di me ci sono due notizie la prima è molto positiva e ripeto ragazzi la canzone su leao anche lo dico ai ragazzi della curva serve la canzone su megnan megnan merita stramerita una canzone è un portiere pazzesco e poi vito elia mi diceva se succede che il 10 alziamo noi la coppa megnan pallone d'oro dopo yashin oltre al premio yashin megnan pallone d'oro se succede quella cosa lì secondo me lui potrebbe anche puntare al premio d'oro però è un se che è ancora lontano manca un mese e mezzo non è detto che ci arriviamo speriamo di essere versione tifoso e non versione gufo ci siamo intesi una milanese comunque ci arriva la prima notizia positiva è che il milan cosa che auspicavamo anche dopo l'intervento che aveva fatto credo su ericheno di lorenzo con la francia dicevamo scadenza 2026 però cerchiamo di anticipare il rinnovo e in questo senso il milan ha già avviato dei contatti con il suo agente per arrivare a un rinnovo dei contratti in tempi molto più tranquilli anticipati rispetto magari ad altre situazioni 2026 non è domani non è dopo domani però non è neanche tra una vita nel calcio quindi bisogna stare tranquilli mettersi al sicuro il suo contratto verrà adeguato nelle intenzioni del milan da 3 milioni circa attuali a 4 e mezzo 5 bonus compresi quindi andrebbe a prendere una cifra importante con lui che da quello che ci dicono milanello al milan sta molto bene non ha intenzione di andare via tra l'altro se andiamo a vedere i numeri della gara con il napoli ha fatto tre salvataggi una respinta due duelli di testa vinti parate dentro l'area 3 rigori parati 1 42 tocchi 73 per cento passaggi riusciti ha fatto anche 12 lanci insomma 12 lanci è una soluzione l'abbiamo descritto tante volte potere unico dal punto di vista carismatico tecnico di leadership di piede di tutto e di più quindi la buona notizia è che il milan non aspetterà tanto tempo ci sta già muovendo per rinnovare un portiere che si è preso l'altro giorno dopo la partita vinta contro pareggiata ma al passaggio del turno con il napoli la prima pagina dell'equipe con anche girù grandi come il milan è un portiere che sta alzando incredibilmente ancora di più il livello che era già alto e che comunque è chiaro che richiama l'attenzione è inevitabile che richiami l'attenzione dei top club in europa abbiamo già raccontato un mesetto fa che il tottenham pensa lui per il dopo iuris portiere che tra l'altro lui ha sostituito in questo avvicendamento con la francia abbiamo raccontato anche di un altro club in inghilterra che segue si informa ma la notizia che è stata anticipata dal mio amico franco ordine sul giornale è clamorosa e quella è la mia vera e propria preoccupazione non voglio creare allarmismo in questo momento non c'è allarmismo intendiamoci questa è la premessa quindi potete stare tranquilli ad ascoltare questo video fino alla fine però il mio amico franco ordine sul giornale racconta scrive questo ha ricevuto ha trovato anche delle conferme attraverso triangolazioni in francia che il psg è pronto a offrire 80 milioni di euro per magic mike megnan io so che loro vogliono migliorare la quota francesi vogliono portare la giocatori francesi megnan ricordiamo è cresciuto nel loro settore giovanile poi ha fatto un percorso diverso non ci hanno creduto e oggi si mangiano le mani 80 milioni di euro uno da fuori mi può consigliare portiere è importante ma non è determinante insomma dipende cedi il giocatore ti rifai la squadra non è una teoria così bizzarra però io questa persona che viene da fuori dico in in generale potresti avere ragione con megnan no puoi andare perché megnan è qualcosa di più e tra l'altro è entrato nel cuore dei tifosi io lo vedo davvero una faccia da minan un giocatore da minan la mia vera preoccupazione guardando in giro in europa è che psg davvero possa arrivare franco ordine lo ha scritto sul giornale ed è curioso molto curioso incredibile il psg preleva dal minan donna rumma lo strappaga a livello di ingaggio e dopo poco tempo se ne pende e vuole il portiere che minan ha preso per sostituirlo qualcosa davvero da sceneggiatura di una telenovela 80 milioni sono tanti personalmente ripeto io dico no ieri oggi domani dopo domani e sono sicuro lo so che il minan non ha nessuna intenzione di privarsi di megnani in estate bisogna mettersi il cuore in pace quando i giocatori forti è evidente è inevitabile e forse anche un onore una cosa positiva perché significa che stanno facendo bene che che arrivino club e che presentino offerte e che si interessino con le aula abbiamo rispinto per quanto riguarda cessi la scorsa estate vedremo cosa accadrà quest'estate anche con te abbiamo rispinto degli abboccamenti e ora è inevitabile che con minan ci possano essere situazioni simili dal minanello ci dicono che minan sta bene al minan che si vede al minan per tanti anni ovviamente si può prendere con le pinze questo spiffero perché abbiamo sentito anche altri altri casi che poi andate a finire diversamente è molto curioso e singolare ripeto che il psg offre 80 il passaggio successivo è che poi ti dà in prestito donna rum sapete ve lo portava l'ombrello mio nonno ecco avete capito avete capito diciamo che questo è l'ulteriore sigillo su un'operazione non buona di più su un'operazione clamorosa una sliding door pazzesca che ha fatto il milan quando è andato via donna rumma è arrivato megnan quasi due anni fa detto questo il milan che vuole rinnovare il contratto fa cosa buona e giusta fa capire fa capire che insomma nessuno in questo momento può strappare megnan e quindi qualsiasi offerto 80 magari anche 100 è destinata ad essere rispedita al mittente però è molto singolare la vicenda e ci sta io me lo aspettavo che prima o poi sarebbe arrivato il psg o che prima o poi arriverà il psg perché il psg in porta non è coperto donna rumma non è un valore aggiunto è un limite del psg e quindi ci sta che che prima o poi possano arrivare o che arriveranno ma il milan con un rinnovo del contratto del quale ripeto si sta già parlando da qualche settimana avrà tutta la forza e il piacere di dire no grazie tenetevi il vostro a 80 ma neanche a 100 no io megnan megnan è un valore aggiunto megnan ti porta punti e se non lo hai perdi punti quindi la speranza il mio vero auguri oltre che il rinnovo di megnan è che il prossimo anno possa stare sempre bene perché un megnan dalla giornata 1 alla giornata 38 significa tanti tanti punti e magari seconda stella ditemi che cosa ne pensate ragazzi commentate numerosi qui sotto mi raccomando ci conto iscrivetevi qui che non si iscrive tifa inter ragazzi queste sono le settimane del chi non si iscriva tifa inter fate la vostra scelta rossoneri benvenuti un grazie ai nuovi un grazie ai vecchi commentate qui sotto numerosi se vi va scaricate l'app di one foot lo vi metto qui sotto il link megnan non si tocca rinnoviamo il contratto e il psg donnarumma tenetevelo fortissimo portiere forza al mondo ciao peppe ciao ragazzi comunque monitoriamo perché comunque nel calcio non si sa mai però rinnoviamo 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 ciao